E' solo una signora, molto più destello e una vita Grandi emozioni ieri sul palco del Radio Norba Battiti Live a Lecce che ha ospitato due cantanti che hanno fatto la storia della canzone italiana Immensa Loredana Bertè, capace di far cantare e ballare anche i più giovani con alcuni dei suoi più grandi successi Stesso discorso per Edoardo Bennato, altro grande ospite della serata con l'immancabile fisarmonica Un cast davvero di primordine per Lecce che anche ieri ha risposto alla grande riempiendo l'inverosimile Piazza Santoronzo il suo cuore pulsante Entusiasmo alle stelle per Arnata Tangelo che ha proposto il suo ultimo singolo Un pezzo dance ma anche il brano portato a Sanremo e a cappella uno dei suoi più grandi successi Tra i big della serata anche Lizzolo Assoluto e Siria e poi tanti talenti sfornati dalla TV da Noemi a Loredana Errore fino alla coppia che ha tronfato all'ultima edizione di Amici Virginio Simonelli e Annalisa Scarrone acclamatissimi dalla piazza Nel cast anche Simona Molinari altra talentuosa cantautrice e poi l'austriaco Leo Averer Di marca Salentina invece sia l'apertura che la chiusura dello spettacolo A rompere il ghiaccio ci ha pensato una band di Tricase e Bundabash che da queste parti conoscono molto bene i Sud Sound System hanno invece chiuso la serata con il loro inno dedicato alla gente di questa bellissima terra prossimo appuntamento del Radionorma Battiti Live domenica prossima a Brindisi benvenita abbiamo il nostro paese il nostro paese il nostro paese è niente ho io io ho io Grazie a tutti.